Sono ben contento di dare il benvenuto a una graditissima ospite che è ritornata a trovarci quest'oggi anche in compagnia, poi capiamo bene di chi, parliamo di Alessia Spina, buongiorno Alessia Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti E in collegamento con noi Joe Blonde, buongiorno Joe Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'offerta di essere qua Ma grazie a voi, grazie a voi e grazie a Alessia di essere tornata qui con noi, il tabù dell'amore Oggi parliamo ancora di questo, io lo chiamo libro, ma non è solo un libro, non ho ancora tratto per l'aggettivo giusto per definirlo Lo chiedo a Joe magari, lo chiedo a Joe, Alessia lo dici tu Posso rispondere io Libro è riduttivo Sì, perché in realtà è un progetto, un progetto che unisce creatività scientifica e creatività artistica E' una produzione di immagini scattate con fotocamera analogica Testi prodotti dalle interviste che abbiamo effettuato su 50 partecipanti E disegni che i partecipanti hanno effettuato Hanno fatto loro proprio, durante e dopo le vostre domande, giusto? Giusto E come nasce invece questo connubio con Joe? Joe, come nasce appunto questo vostro lavorare insieme e lavorare a questo progetto? Ma guarda Fabio, ci conosciamo da diversi e lunghi anni Credo sia stata un'esigenza profonda di sondare questo problema, direi anche quasi sociale adesso Di educare alle relazioni, no? Alessia, poi mi dici tu se è vero o meno Cioè di aiutare a educare alle relazioni un po' noi tutti Che può aiutare a rendere ognuno di noi consapevoli di chi siamo Di cosa desideriamo Delle nostre emozioni senza fuggirne E di come possiamo interagire un po' insieme agli altri con il resto del mondo Senza farci troppo male E farne agli altri, no? Che è un problema un po' di tutti i giorni Soprattutto se ne sente parlare E quindi Ma perché secondo voi si fugge da queste emozioni? Anzi, secondo voi alla fine so che l'avete letto Ce l'avete capito, credo, tra le righe del vostro progetto Perché si tende a fuggire dalle proprie emozioni? Allora, mi permetto di rispondere io Intanto grazie Joe Noi ci siamo conosciute durante un percorso fotografico molto intenso Qualche anno fa E ci tenevo a fare questa piccola aggiunta Per arrivare alla tua domanda Perché si fugge dalle emozioni? Perché Diciamo che le emozioni ci espongono Al nostro essere vulnerabile Che facciamo molta fatica ad accogliere Ma in realtà facciamo un grande errore di valutazione Perché le emozioni in realtà ci aiutano A interpretare la realtà Sono dei dispositivi necessari Per affrontare il quotidiano E per conoscerci meglio E c'è anche questa difficoltà Dell'entrare veramente in relazione con noi stessi Con la nostra parte autentica Mi verrebbe da dire E di conseguenza poi entrare in relazione con gli altri Perché è chiaro che quando entriamo in relazione con l'altro Dovremmo teoricamente entrare con la parte autentica Di noi e dell'altro Per stare veramente in relazione Altrimenti mettiamo in gioco il nostro personaggio Le nostre maschere Ma in realtà non ci relazioniamo veramente Le maschere Le maschere Quanto carnevale nelle nostre vite effettivamente Ma è bello il nome anche del vostro progetto Perché appunto il progetto è il tabù dell'amore Parole che difficilmente si trovano insieme Spesso mi viene dire tabù Il primo tabù che viene in mente a tutti è quello del sesso ad esempio Amore che magari a volte è una conseguenza del sesso O viene prima Questo non lo so Dipende dalle persone a volte Però nel senso è comunque Tabù e amore non si era mai pensato di mettere insieme Invece voi Partendo anche voi credo proprio dall'idea del tabù del sesso Ci si domanda Com'è che adesso invece esiste il tabù dell'amore Sì, infatti con Joe la riflessione è stata proprio questa Ovvero il tabù del sesso è una proibizione culturale Morale ben riconosciuta Del tabù dell'amore non se ne parla Però è come se ci fosse un grande implicito sul tema Che emerge da quello che è possibile osservare Nella difficoltà di esprimere i propri sentimenti Di entrare veramente in relazione con l'altro Ad oggi facciamo una grande fatica Proprio perché siamo spaccati tra paura e desiderio del legame Che è un po' il prodotto della nostra società liquida Come direbbe Bauman Mamma mia, ma avete capito che ospiti vi porto? Anche Bauman mi cita Ma soprattutto invece voglio capire anche un'altra cosa Qui parliamo anche di fotografia Com'è fotografare? Viviamo in un mondo dove in realtà pensiamo Che la fotografia faccia parte della nostra vita Perché con un iPhone, con un qualsiasi telefonino Ci facciamo un selfie e siamo a posto Ma lì siamo noi a decidere cosa mostrare e come mostrarlo Quando invece c'è un'altra persona Nella macchina fotografica Lì è un po' diverso Quando le foto devono far vedere il nostro intimo Lì è un po' diverso Com'è stata invece questa parte? Chiedo a entrambe, chi vuole dirmelo Com'è stata questa parte invece di creazione del contenuto Che questa volta non è il contenuto Come diciamo tutti in un punto Il content creator Ma è proprio un contenuto artistico Tutti gli effetti Gio, vuoi dire qualcosa? No, inizia pur tu Credo che sia stata poi Alessia A donare la macchina fotografica No? Poi i soggetti intervistati Ha fatto un lavoro bellissimo Perché tu hai donato, giusto? Infatti, com'è? Segnativo Allora Con i soggetti intervistati, sì Sì Allora, innanzitutto dico che Fotografare oggi È un po' un atto compulsivo Che porta poco a pensare Al contenuto di quello che scattiamo Per via di questa bulimia Che abbiamo nello scatto digitale È il motivo per cui noi abbiamo scelto La fotocamera analogica Che porta invece a una riflessività diversa Proprio perché la fotocamera analogica Ci permette un tot numero di scatti limitato E dobbiamo quindi pensare di più A quello che vogliamo scattare E questa è la prima parte La seconda parte Che è quella che ha accennato Joe È che io effettivamente Ho sviluppato anche una fase asincrona Con i partecipanti Che ho intervistato Consegnandogli una fotocamera Usa e getta analogica E chiedendogli di effettuare Due scatti Sui contenuti Che erano emessi Durante l'intervista Postumi Entro 48 ore dall'intervista E quindi loro avevano un po' questo Ed era anche Una fotografia analogica Per anche dargli un limite Non potevano fare scatti a caso No no Avevano un'indicazione ben chiara E soltanto due scatti a disposizione Senza vedere come vengono Esatto Poi mi viene da dire Che comunque è una sorta Di viversi l'emozione Ritornando alla questione delle emozioni Con lo scatto analogico Vivi il momento Vivi l'emozione Poi lasci andare Lo rivedi quando vai a sviluppare Scansionare il rullino E poi in questo caso Nella carta stampata Se lo vivranno Chi acquisterà questo meraviglioso progetto E infatti Perché è bravissima Mi hai dato proprio l'astit Perché adesso Fra poco andiamo in pubblicità Ma facciamolo Noi un piccolo Passo Un piccolo spazio di pubblicità Come diceva Vasco Rossi Spieghiamo come E si può fare ad esempio Ad avere questo volume Sì allora Noi attualmente stiamo facendo Una campagna di crowdfunding Attraverso una piattaforma editoriale Crowdbooks Che permette alle persone interessate Di acquistare una copia In preordine del libro E facendo questo acquisto Possono contribuire Alla realizzazione del libro stesso Ovvero coprendo le spese di pubblicazione Se andrà in porto Come ci auguriamo Entro fine dicembre Riceveranno la copia cartacea del libro Se non andrà in porto Ritornerà sul conto che hanno utilizzato L'importo Ma non succederà Perché Anzi Treviamo a stamparne ancora di più Sicuramente Ma ricordiamo bene Com'è la piattaforma Come si fa Vai ripetemelo bene Allora Poi magari inseriamo anche un link Sì ovvio Però La piattaforma è crowdbooks Il tabù dell'amore È il libro Una copia costa 25 euro E Tra l'altro Un libro abbastanza Copioso Nel senso Sono quasi 300 pagine Tra disegni Immagini Sì E testi Quindi Direi che Vale la pena Ed è bello questo Perché è un libro fotografico Sì È un libro di testi Sì È un libro di disegni Sì È tutto È tutto È un progetto scientifico Sì Ecco E adesso poi Dopo la prossima canzone Torniamo proprio su questo Il progetto scientifico E adesso Gianna Nannini Bello È impossibile Gianna Nannini Bello è impossibile Come bello è impossibile È il libro Che dovete per forza prendere Il tabù dell'amore Anzi Bello è impossibile Interessante Fatto bene Anche ci aggiungiamo E come diciamo Anche Progetto scientifico Molto Molto ben Fatto e strutturato Proprio Dopo entriamo bene Perché mi piace Con la parte di Mi piace Mi ha parlato già una volta Mi piace tanto Andare a vedere Come l'avete realizzato Ma Il tabù dell'amore Appunto È Risulta essere Quindi un tabù Questo amore Questi sentimenti Che è difficile Da gestire E soprattutto È difficile gestire Quando si parla anche Di affettività Che poi viene magari Può sfociare anche In qualcosa Di un po' più Pericoloso Non capacità No? Sì Grazie Fabio Perché Questo è un mese Importante Da questo punto di vista Novembre appunto Il mese Che ha una particolare Attenzione Sulla Violenza di genere E di fatti Il nostro lavoro Può anche essere letto In questo senso Ovvero Una buona educazione Emotivo-affettiva Può prevenire Anzi Previene Comportamenti E atteggiamenti Violenti Quindi Mi fa molto piacere Stressare Questo aspetto Perché nel momento In cui Noi Non riusciamo Ad accogliere Le nostre emozioni A rinominarle E A elaborarle Mi verrebbe da dire Proprio Digerirle Per passare Con termini Che può aiutare A comprendere Il processo Rischiamo Di agirle E quindi Non c'è Una mediazione A livello Di pensiero E L'emozione Spesso Viene Trasformata In agito Proprio perché Non c'è Questo passaggio Che permette Alla persona Di comprenderle E Diventa Un agito Che può Sfociare In diversi modi Chiaramente E Quindi È Importante Sì Scusami Io volevo sapere Che gioco Ne pensava Su questo tema E anche capire Un po' Che cosa Hai In realtà Volevo sapere Anche le vostre emozioni Che avete provato Durante la realizzazione Di questo progetto Mi aggiungo Ad Ale Ad Alessia Alessi Insomma Che giustamente Ha detto cose sacre Che infatti Ho fatto un lavoro Anche su di me Grazie proprio Anche a questo A questo libro A questo progetto Che è durato anni Perché cercare Di affrontare Tutti noi Io in primi Spulsioni Emozioni Sentimenti Che a volte Possono essere Non so come dire Travolgenti A cui a volte Io stessa Non sapevo dare un nome Può speciare appunto In rabbia E violenza No? E la violenza Nelle relazioni intime Costituisce Secondo me Ora Come ora Un problema Psicologico Sociale Piuttosto Complesso Che può avere Anche degli impatti Significativi Sia Sia Nella salute Individuale Sia Nella società In generale Ed è proprio Quello che Stava dicendo Alessia Dare un nome A quello che sentiamo Farci anche aiutare Noi In alcuni casi Con una figura esterna Per fare questo Ecco Bene Quindi insomma È servito anche a voi Da quanto ho capito No? Assolutamente Ogni lavoro Del genere Che coinvolge Veramente Tutte le parti Di una persona È anche un lavoro Personale Cioè un lavoro Di crescita personale Lo faccio Io personalmente Lo faccio per quello Che fatica Perché se non mi metto In gioco io Come faccio A coinvolgere Gli altri Quindi deve esserci Assolutamente Un coinvolgimento Attivo Partecipativo Chiarissimo Chiarissimo Allora Gio Noi ti ringraziamo Di essere da qui con noi Ti lasciamo Al tuo viaggio Grazie a voi Grazie Gio Andiamo avanti però Con Alessia A parlare Quindi poi dopo Puoi ritrovare tutto Sul nostro sito Così puoi dire Alessia sai tutto giusto No La puoi controllare Anche da remoto Va bene Per fatto Perfetto Buona giornata E buon divertimento Grazie mille Grazie Buona giornata Alessia tu invece Rimani qui Perché andiamo avanti A parlare del tabù dell'amore Subito dopo Questo piccolo stacco Pubblicitario Gaia con Tokyo E ci fa brillare Ci fa pensare Tutto questo Anche il tabù dell'amore Il libro appunto Di cui stiamo parlando Il progetto Anzi Viene da dire Ancora di più Il progetto scientifico Poi Che vede la luce Appunto in un libro finale Di Alessia Spina E Joe Blond Progetto scientifico Perché appunto Tutto ricordiamo Parte da una base scientifica Sì Corretto Fabio Abbiamo condotto Delle interviste Semistrutturate Su 50 partecipanti Di età diverse Provenienza diversa Quindi una popolazione Molto varia Per indagare Quelli Che Quelle che erano Rappresentazioni E atteggiamenti Riguardo a Sesso E amore Quindi Indagare Usi Perché è interessante Quello Perché voi dovete indagare Le emozioni Non espresse Qualcuno che esprime Le emozioni Mai l'avete trovato Anche immagino Assolutamente C'è un po' di speranza In questo mondo Assolutamente Sì Sia emozioni Che sentimenti Però C'è una difficoltà Tendenzialmente Nell'esprimerli Perché Cosa è successo poi Ti chiedo Shakespeareano domanda Ma è già Cioè Il non esprimere Emozioni È essa stessa Un'emozione Quasi Shakespeareana Come domanda O barzuliana Dipende Allora Il fatto di Non esprimere Emozioni Può dare La parvenza Che la persona Non provi Emozioni Ok Però in realtà Questa è un po' Una distorsione Perché La persona Poi dipende Chiaramente dal fenotipo Non possiamo generalizzare Però Spesso avviene Che la persona In realtà Le prova E quindi Mi farebbe da dire Somatizza Per passare A un termine Fruibile E Si Come dire Causa Una serie di Manifestazioni A livello Somatico Perché Come dicevo Anche l'ultima volta Il fatto di Non esprimere Emozioni Può avere Anche Delle Conseguenze Perché qui Il tema Non è Non provarle Le emozioni Non esprimerle Esatto Mi sembra Che sia quasi impossibile Non provare Le emozioni Ci sono Quelli Che Se si fosse Anestetizzati Però Ecco Il problema Più comune Che mi verrebbe Da dire A livello Psicosociale È proprio Che ha Anche una base Culturale È proprio Quello Di Non esprimere Le emozioni Le emozioni Perché Addirittura Ti insegnano Che non sta bene È base Culturale Hai detto Appunto Ti insegnano Che Sì Perché Per esempio Anche nella cultura Del maschio alfa Visto che prima Abbiamo parlato Di violenza Di genere Il fatto Che L'uomo Sicuro Di sé Non deve Mai mostrarsi Fragile Non deve Mai mostrare Di provare Emozioni Non deve Chiedere Mai Ma se non Chiede Come fa Sapere E soprattutto Se non chiede Poi agisce Quindi Questa Grossa Corazza Che mi verrebbe Da dire Che è una Grossa Stereotipia Culturale Sul Maschio Vigoroso Che Non deve Provare Emozioni È un Chiaro Esempio Di quello Che ti stavo Dicendo E E che qualcosa Non funziona Aviene anche Nel momento In cui Per far Capire Com'è Culturalmente Socialmente Il maschio Dobbiamo citare Una pubblicità L'uomo Non deve Chiedere Mai Questo ci fa Capire Anche un po' Dove arriva Proprio questo Quindi Calza Perfettamente E Però Questo crea Poi Una serie Di problematiche Anche perché Spesso poi Questi Uomini Hanno C'è Lano Una grossa Fragilità Dietro Questa Corazza Invincibile Ma questa è quella Che a volte Vede definita Quella famosa Mascolinità Tostica Cioè che è Tostica sia in un lato Che nell'altro E questo No E altro Chiedo Chiedo All'esperta Nì Nel senso che Sì C'entra Assolutamente Anche perché È un po' Quella Propensione Che abbiamo Nel Irrigidire Il confine Nel senso Che Il maschio Deve essere Maschio Cento per cento Non può avere Delle componenti Femminili Nel momento in cui Si sente Vulnerabile E si sente Diciamo Quella parte Femminile Che emerge Perché Culturalmente Quella è stata Definita Parte femminile Ma non è Assolutamente Nel senso Tutti siamo Dotati Di una parte Emotiva Un po' più Cognitiva Razionale Cioè dovremmo Integrare queste due parti E evitare Di scinderle Perché E questo Rientra poi Nell'atteggiamento Del maschio Azzurro Femmina rosa Allora le categorie Ci servono per Interpretare la realtà Ma se diventano Si rigidiscono Diventano Delle barriere Grandissime Che non ci permettono Di Finché Etichetta Può anche funzionare Quando poi diventa Gabbia È un altro problema Bravissimo Hai colto il punto Perché l'etichetta Va bene Nel senso che Aiuta anche a Incasellare La realtà Mi verrebbe da dire Noi abbiamo bisogno Di categorizzare Vado in una libreria Io voglio un libro giallo Vado in una cattedra gialla Non è che posso Vagare per la libreria Perché un giallo Non può essere Anche un altro genere Letterario Ecco E questo è il senso Non dobbiamo Rigidirci Altrimenti Rischiamo di Non riuscire a riconoscere L'altro Da sé Che tendenzialmente L'altro da sé È anche una grande proiezione Di quello che non riusciamo Ad accettare di noi E quindi Definiamo Nemico Una persona Adesso sto Veramente portando Il concetto Agli estremi Però anche Nella discriminazione Funziona così Noi definiamo Un nemico Una persona Che magari Ha delle caratteristiche Che non sono nostre E magari Poi veniamo a scoprire Quelle caratteristiche Che erano nostre E le abbiamo proiettate Perché le abbiamo scisse Perché non volevamo Accettarle E quindi Fuori da noi Non sono dentro di noi E quindi Non possono in qualche modo Intaccare l'immagine Che abbiamo di noi Ecco E se tutto questo Vi interessa Sappiate che c'è Un bel volume Che potete Su Crowdbook Aiutare a vedere La luce E soprattutto Ricevere a casa Giusto? Giusto Il tabù dell'amore Lo ricordiamo È possibile Supportare il progetto Acquistando Una copia In preordine E Contribuendo così Alla pubblicazione Dello stesso Che dovrebbe avvenire Entro fine dicembre Entro fine dicembre Più o meno E La cosa interessante Di questo progetto Diciamo che Come avete sentito Un progetto scientifico E che base scientifica Adesso appunto Adesso tu studi da anni Tutto questo mondo E quindi insomma Sai bene di cosa stiamo parlando È un progetto anche artistico Anche artistico Certo Perché ci sono le foto Ci sono i disegni E alcune di queste foto Sono fatte proprio Dagli stessi intervistati Dopo Questa cosa Che in realtà Loro le hanno vissute Come le emozioni In questo processo Perché Durante l'intervista E poi dopo E poi adesso Arriveranno Una volta visto Il conto finale Ed è bello Perché comunque C'è sempre Una rilettura Del contenuto E oltretutto Rivedere Il tutto In una situazione Posto Ma le ha aiutati Anche ad uscire Un po' Dalla zona di comfort Perché loro si sono messi In gioco Nel momento in cui Hanno dovuto effettuare Due scatti Così in analogico Entro due giorni Raccontando delle cose Che non erano emerse Durante l'intervista Loro sono usciti Da loro zona di comfort E quindi Questa esperienza È anche servita Per una crescita Personale Molti ci hanno Anche ringraziato Per quello che Abbiamo innescato Mi verrebbe da dire Noi per mettere In gioco La nostra creatività Artistica Nel mio caso Scientifica Anche quella artistica Abbiamo bisogno Di uscire Dalle nostre Come dire Gabbie sicure Perché anche qui Tu hai l'etichetta Della scienziata In un certo senso Ma tu dici Io sono anche per la parte artistica Quindi metto anche l'etichetta Della parte artistica Quindi esco appunto Dalla gabbia Anche lì Certo Perché è esattamente Quello che stavamo dicendo prima Sulle etichette Sulle categorie Che non devono essere Troppo rigide Troppo confinate Ragazzi Dobbiamo essere Anche liberi Di reinventarci E di evolverci Perché se rimaniamo Sempre dentro Quell'angolo Di protezione Allora non evolviamo Non c'è possibilità Di cambiamento Bisogna dire Questa zona Di comfort Che ormai tutti Sbandierano Cioè Che palle Posso dirlo? Crea un sacco Di insoddisfazione E poi la zona di comfort Perché noi Non siamo soddisfatti Solo con la sicurezza Noi siamo soddisfatti Se possiamo Vincere la sicurezza Metterci in gioco E essere in grado Di risolvere Situazioni nuove Che ci aggiungono All'esperienza Che ci arricchiscono Ecco Sappiate che da domani Faccio la trasmissione Tutta la trasmissione Cantando Esco dalla mia zona di comfort Va bene? Peggio per voi Che meraviglia Io mi sentirò bene Così ha detto la dottoressa Quindi io non c'entro niente Non vedo l'ora di ascoltarti Fabio Alessia Siamo quasi in chiusura Allora diamo proprio veramente Le ultime indicazioni E poi dobbiamo però salutarci Ok allora Se vogliamo esplorare Questo progetto E questa lettura Dell'amore In un senso alternativo Che non è quello A cui siamo abituati solitamente Crowdbooks Il tabù dell'amore Il tabù dell'amore Crowdbooks E adesso sigla Rimani qui per i tutti i finali Alessia